Tipo coreale, cultura, quella che spingono a discutere la televisione Prova a rafferrare il mio concerto C'è ne fosse uno che ti faccia rigar dritto Che ti dia un consiglio per il giorno Solo le stronzate che puoi mettere nel forno Fate le novella, scherzo un sogno ad ogni pasto Sogno ad occhi aperti fino a quando arriva il conto Cose interessanti segregate in ore in cui Davanti alla tv ci sono solo folgorati come voi Niente male, niente male Solo non capisco come cazzo fa Marzullo a non dormire Con le storie che bastisce senza fermate Arriva il capolinea dove ha depositato le stronzate A pacchi su anti-v Registrata al copyright in 36.000 investimenti Telecomando, cambiare lo squallore in un commento Per risalire a galla dopo aver toccato il fondo mille volte Cambiare l'impedenza in otto Non ci rispondono, non ci rispondono Con le note, riempire quelle frasi che si vuole Perché vogliono essere d'esempio e sono tristemente rimbazzate Mentre la porta e piede solo ti portò E poi non ci rispondono Iniziali, vieni la tua periferia Poi se ti risulta scomoda Inventati la tua fatta di storie Dimitidimente la gente sgomitando Gente nette fra le viene Initarsi a fare della buona informazione Cazzo ne frega della gruva sull'altare Dammi un buon motivo per cui non cambia il canale Se il servino o peggio vorrà dire che farai cagare Predicatori, materassi e loro venditori Si spregano le mani mentre fanno loro affari dagli sguardi Mi resta solamente un'impressione Non è, non è, non è, non è Sarò coltretto ad essere anticonformista Con i fede dipendenti l'ultimo della lista Così quel suo buonismo non rimanga intorno Perché la vita non è un canone per anno Telecomando Cambiare lo sguardo in un commento Per disegno di avviarla dopo aver toccato il fondo mille volte Cambiare l'impedenza in oto Non ci dice che va, non ci dice che va Per quelle note, riappure quelle frasi così vuote Che vogliono essere ad esempio Sono tristemente impazzate Non può che vieni solo due volte Non ci dice che va, non ci dice che va Non ci dice che va, non ci dice che va Per più scevoli è la televisione Più spazio, la cultura, meno disinformazione Più rispetto per le donne che in vetrina schiappeggiate Non prestare l'attenzione alle sue distrazioni Fatte a colpi di Fatte a colpi di Fatte a colpi di Telecomando Cambiare lo sguardo in un commento Per risalire a gala dopo aver toccato il fondo mille volte Cambiare l'impedenza in oto Con le note Puoi dire quelle frasi così vuote Che vogliono essere ad esempio Sono tristemente impazzate Tra porti e piedi sono tipo un don Fatte a colpi di Fatte a colpi di Fatte a colpi di Fatte a colpi di Fatte a colpi Fatte a colpi di 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 Grazie a tutti.